Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qua per fare il pagellone della Juventus della stagione 2018-2019. Allora, parto col dire che oltre a dare voto ad ogni singolo giocatore, all'allenatore e alla stagione in generale, dirò anche se ogni giocatore, a mio modo di vedere, vada tenuto o meno. Detto questo, iniziamo subito. Iniziamo dai portieri. Partiamo da Szczesny che si prende 7,5, uno dei migliori dell'annata bianconera. Aveva il compito, ha il compito di non far rimpiangere Buffon. Eppure lui si è dimostrato un portiere che para, un portiere sicuro, un portiere affidabile. È anche stato decisivo in alcune partite della Champions, quindi direi che è da tenere. Poi Perin. Perin, voto 6. Ha giocato poco, quelle poche volte che ha giocato, alcune volte bene, altre un po' meno bene. Io non lo confermerei, anche perché l'anno prossimo ci sono gli europei. Per essere convocato con la nazionale italiana devi giocare un numero abbastanza importante di partite, cosa che alla Juve per lui non è possibile, quindi per questo lo lascerai partire. Proverai a prendere un secondo portiere che non sia fortissimo, però comunque un portiere che pari senza spendere troppo, tipo uno come Sorrentino, Sportiello, Consigli, o ciò ha insomma un nome di questo livello. Poi, Pinsoglio senza voto. Ha giocato solo l'ultima partita di campionato, è il terzo portiere. E sì, lo terrei, anche perché vedo sui social che è un ragazzo simpatico, dai. Passiamo poi ai difensori. Chiellini, voto 8. Ottima stagione per lui. Capitano della Juve che è un gigante in difesa. Tiene in piedi la difesa da solo. Infatti, quando non c'è lui il reparto arretrato, direi che traballa anche abbastanza. Unica pecca è che subisce veramente troppi infortuni. Quindi, in fin dei conti, sì, lo terrei, però in difesa mi mobiliterei abbastanza sul mercato andando a comprare un altro difensore che possa essere titolare fisso, un difensore giovane e che abbia già giocato in Europa. Cioè, che abbia giocato in Champions, ecco, scusate. Poi, Bonucci, voto 6. Stagione sufficiente per lui. Stagione al rientro dopo la breve parentesi al Milan. Gli anni passano anche per lui. Le cazzate le fa sempre, perché comunque la Juve ha preso dei gol per i suoi errori in marcatura. La sufficienza c'è, perché comunque nel complesso il suo l'ha fatto. Sì, lo terrei, però vale lo stesso discorso di Chiellini. Barzagli, poi, senza voto. Ha giocato veramente molto poco, però per la carriera che ha fatto direi che un 8 non glielo leva nessuno. Rugani 5. Rugani bocciato. Quando gioca dimostra... Non dà sicurezza al reparto. Gli manca la personalità. Io comunque lo terrei come panchinaro. Vediamo un po' se con il nuovo allenatore riesce a trovare degli stimoli. Caceres, voto 6. Doveva essere un tappabuchi. Un tappabuchi è stato. Adesso torna alla Lazio e vediamo un po' cosa ne sarà di lui. Benatia, voto 5. Ha giocato poco e male. Si è lasciato poi andare a delle dichiarazioni un po' così che hanno inevitabilmente portato ad una sua cessione a gennaio. Mi dispiace per come sia finita perché lo reputo un ottimo difensore. Un difensore completo che nel complesso, secondo me, è anche superiore a Bonucci e Chiellini. Cancelo 6.5. Stagione un po' a due facce però nel complesso buona per lui. Una prima parte ottima, una seconda parte un po' meno positiva. Lui è un terzino molto bravo in fase di spinta. Ha anche un buon piede in fase difensiva invece si lascia un po' a desiderare. Io comunque lo terrei perché col nuovo allenatore che probabilmente prediligerà un calcio offensivo, un calcio votato all'attacco, lui può essere davvero devastante. De Sciglio 6. È un giocatore da compitino. Ti fa il compitino. In una squadra come la Juve può essere al massimo un panchinaro. Io sarei più per cederlo però se anche rimanesse di certo non è che mi strappo i capelli. Alex Sandro 6 meno. Qualche buona cosa un po' meglio rispetto all'anno scorso. Però siamo lontani anni luce dall'Alex Sandro devastante delle prime due stagioni. Facendoci un po' di cash io lo lascerei partire. Però allo stesso tempo c'è da dire che col nuovo allenatore magari lui può ritrovare gli stimoli e quindi rilanciarsi. Spinazzola 6 e mezzo. Non ha giocato tantissimo però quelle poche volte che ha giocato ha dimostrato di essere un buon terzino. Sulla corsia spinge come uno stantuffo. È bravo nei cross. Io lo terrei perché comunque è un giocatore giovane. È italiano. È bravo in fase di spinta. E quindi secondo me merita la conferma. Passiamo al centrocampo. Pjanic 6 meno. Un giocatore che la tecnica ce l'ha però va scatti. Scatta come una molla quello lì. Rallenta il gioco. Non verticalizza quasi mai. Non mi fa più di tanto impazzire. Io personalmente sarei per una sua cessione dalla quale guadagneresti anche una buona cifretta. Matuidi 6 e mezzo. Tecnicamente sì. Non è un fenomeno. Ha due saponette al posto dei piedi. Ma non le saponette integre. Quelle tutte consumate. Però fa un lavoro sporco incredibile a centrocampo. Recupera una quantità incredibile di palloni. E poi corre come un dannato. Comunque sì. Lo terrei come Gregario. Che dire senza voto. Ha giocato troppo poco. Però comunque i suoi anni li ha. Il suo l'ha dato. Sempre infortunato. Quindi quella è la porta. Vendiamolo. Betancourt 6. Alti e bassi per lui non è un fenomeno. Ha delle buone qualità. Ha anche una discreta sostanza. Solo che commette troppi falli. Come riserva comunque direi che ci sta. Emre Can 7. Per distacco il miglior centrocampista della Juve. Un centrocampista forte fisicamente. Bravo tecnicamente. Bravo a impostare. Bravo a verticalizzare. Ha un tiro da fuori. Tiene su il reparto da solo. Quindi per la prossima stagione. assolutamente da confermare. Bernardeschi 6 e mezzo. Stagione un po' altalenante. Però nel complesso direi positiva. Per il talento da Carrara. Un ottimo inizio. Dove ha segnato anche un discreto numero di gol. Dopo è calato. Si è ripreso nella partita contro l'Atletico Madrid. Dove ha letteralmente seminato il panico. Ha fornito un assist per Ronaldo. Ha sperato il gol in rovesciata. Si è guadagnato il rigore del 3-0. La conferma nella Juve. Per lui direi che ci sta. Quadrado 5 e mezzo. Ha giocato poco. Quelle poche volte che ha giocato. Non ha più dimostrato di essere il quadrado dirompente. Di qualche anno fa. I suoi anni li ha. E quindi direi che la Juve può disfarsi di lui. Douglas Costa 4 e mezzo. Il peggiore della Juve di questa stagione. Tra infortuni, squalifiche e comportamenti un po' così e così. Il campo l'ha visto poche volte. Mi dispiace perché è un giocatore che a me piace davvero tantissimo. Io comunque sì, lo terrei. Perché adesso arriverà un nuovo allenatore. E sono sicuro, anzi sicurissimo, che col nuovo allenatore Douglas tornerà ad essere Douglas. Attaccanti. Di bala 5 e mezzo. Di bala bocciato. Forse sono stato anche un po' largo, però ha segnato pochi gol. Ok, che gioca lontano dalla porta, però non riesce mai a prendersi la squadra sulle spalle nei momenti difficili. Io personalmente sarei favorevole ad una sua cessione dalla quale guadagneresti una buona, anzi un'ottima cifra. Anzukic 6 e mezzo. È grezzo. È un giocatore che lo trovi praticamente ovunque. Però è anche un giocatore che allo stesso tempo ti rallenta anche il gioco. Nella prima parte di stagione è stato decisivo nei big match. Penso ai gol contro il Napoli, contro il Milan, contro l'Inter e contro la Roma. Personalmente non è un giocatore che mi piace. Non lo reputo un giocatore utile per una squadra che vuole ambire a vincere la Champions, quindi io me ne disferei. Ken, voto 7. Lanciato nella mischia d'Allegri nel girone di ritorno, il ragazzo dimostra di avere qualità, dimostra di avere talento. Si dimostra un attaccante veloce, un attaccante dinamico, un attaccante che dà profondità, un attaccante che ha un buon senso del gol. Può giocare sia come prima punta che come seconda punta. Adesso non pompiamolo troppo come un fenomeno, però la conferma nella Juve per lui direi che è assolutamente meritata. Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo 8 CR7 Mi ha colpito di lui l'umiltà con cui si è messo a disposizione del gruppo una volta che è arrivato a Torino. Poi per il resto è uno che segna valanghe di gol, alcuni molto spettacolari. In Champions praticamente ha trascinato lui la Juve quasi da solo. E se i bianconeri hanno rimontato l'Atletico Madrid, lui almeno il 75-80% dei meriti. Peccato solo che sia arrivato non in formissima nel momento cruciale della stagione. Però come prima annata in Italia direi che il bilancio è assolutamente positivo. Ed è anche inutile dirvi se merita la conferma o meno. Mister Allegri Voto 6 Politico Perché quest'anno ha commesso diversi errori. Ha sempre sto vizio del cazzo di abbassare il baricentro ogni qual volta la squadra va in vantaggio. Si ostina su alcuni giocatori, si ostina su alcuni uomini. Ci sono stati 172.000 infortuni. Questo non è capitato solo quest'anno, o meglio quest'anno più degli altri anni, però anche negli altri anni non si scherzava. Però ha vinto anche il quinto scudetto di fila come allenatore dei bianconeri. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Passiamo a 6,5 perché comunque in 5 anni di Juve ha vinto 11 trofei, una media di 2 e qualcosa. Quindi la sua esperienza come allenatore della Juve direi che è stata assolutamente positiva. Come voto alla stagione io personalmente darei un 7. Hai vinto il campionato senza difficoltà. Sei uscito malamente dalla Champions e dalla Coppa Italia. Se avessi vinto tutte e tre le competizioni sarebbe stata una stagione da 9, vincendone 2, magari Scudetto e Coppa Italia, una stagione da 8. Se fossi uscito un po' meglio dalla Coppa Italia o dalla Champions o anche una stagione da 7,5. Perché secondo me non conta solo se vince una competizione, ma anche come la vince una competizione. Molti reputano la stagione della Juve fallimentare. Io non sono d'accordo perché comunque hai vinto un trofeo e mezzo. Lo Scudetto e la Money Cup è stata fallimentare dal punto di vista che non hai fatto quel salto di mentalità, quel salto di consapevolezza che era lecito aspettarsi quest'estate. Secondo me è stata fallimentare anche la società a fare dei proclami che nei fatti non è riuscita a mantenere. Va bene ragazzi, questo è stato un po' il pagellone della Juve della stagione 2018-2019. Fatemi sapere come la pensate, ditemi su quali voti concordate e su quali voti non concordate. Ditemi poi quali sono i vostri voti personali. Io come al solito mi invito, iscrivetevi al canale YouTube, iscrivetevi alla pagina Facebook, lasciate un commento, lasciate un mi piace. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Grazie a tutti!